Sabato di big match per i due pugliesi del campionato di Serie A di Palamano Maschile. Smaltita la gioia per l'importante vittoria maturata al Palatacca di Cassano Magnago e tempo di un nuovo match casalingo per Conversano. A far visita ai campioni d'Italia sarà il Bolzano di Mario Sporcic, squadra rinnovata e ringiovanita ma avversario sempre insidioso con un mix di giocatori giovani e di esperienza che hanno vinto tutte e due le prime gare in calendario. Per i biancoverdi c'è la voglia di confermarsi tra le muramiche, affinare meccanismi di squadra e continuare a mettere minutaggio nelle gambe per affrontare imbattuti e al meglio la serie di big match che lo vedranno opposto nelle prossime ore a Brixen e Sassari. Messa alle spalle la sconfitta casalinga di sabato contro il Merano per la terza giornata della Serie A Gold, la junior Fasano invece tornerà in campo nella palestra a cradina Pino Corso di Siracusa contro la locale compagine Team Network Albatro. Il team ortigiano allenato da Fabio Reale ha vinto le prime due gare di campionato contro Campus Italia e Carpi e vuole indubbiamente dare continuità forte anche di una rossa decisamente rinforzata nel mercato estivo con le arrivi dei terzi di Julian Soto, Queto e Jan Gorela, dei portieri Lorenzo Martelli e Mattia Gligic e del pivot David Gligic. Sempre presenti nel roster dell'Albatro inoltre le ex junior Vito Claudio Marino e Marco Bobicic, tre protagonisti di questo positivo avvio di stagione del club siracusano. Grazie. 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 Grazie a tutti